Siete di guerra a Vittoria, Modica e a Cate. Buone notizie per i liberi consorsi comunali di Ragusa, Siracusa e Edenna. In arrivo 18 milioni di euro dopo che la giunta regionale ha approvato un assestamento di bilancio che adesso dovrà passare dall'Ars, lo rende noto il deputato di Pasquale. Turi Mazinga rivendicava somme di denaro che l'assassino più volte ha negato. Salvatore Nicosia aveva anche aggredito il figlio dell'assassino, uno dei retroscena del movente del delitto, Nicosia. Il comitato ristretto per il raddoppio della Ragusa Catania ha voluto fare chiarezza dopo le polemiche delle scorse settimane. Lo ha fatto nel corso di un incontro con la stampa, puntualizzando i fatti che porteranno all'apertura dei cantieri. 15 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete ascoltato dai titoli. In apertura ci occupiamo delle vertenze spalmate su tutto il territorio provinciale degli operatori ecologici. Tra Vittoria ed Acate si accende la protesta sul piede di guerra agli operatori ecologici di Acate che hanno proclamato due giorni di sciopero perché da mesi non percepiscono lo stipendio. Situazione non tanto diversa a Vittoria. Ce ne parla Carmela Minardo. No ai licenziamenti né al part-time. Si complica il passaggio del servizio di igiene ambientale a Vittoria dalla Tecra alla EFSRL di Mister Bianco. L'accordo raggiunto in prefettura non soddisfa i lavoratori che dopo un'assemblea ieri sera hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione e l'avvio delle procedure di raffreddamento. Con piglio battagliero i sindacati annunciano in caso di risposte negative azioni forti ed eclatanti. L'impegno della ditta subentrante era quello di assumere 93 unità part-time a 5 ore giornaliere, 30 ore settimanali anziché 36, pagando i contributi previdenziali per intero. I nove amministrativi si vedrebbero decurtare 12 ore settimanali e verrebbero declassati dall'ottavo fino al quinto livello. Per i sette licenziati dalla Tecra prima di venire riassunti bisognerebbe attendere invece il pronunciamento del giudice del lavoro. Dopo il lungo e acceso dibattito tutti i lavoratori presenti hanno chiesto di non sottoscrivere nessun accordo perché è ritenuto lesivo della dignità e dei diritti del lavoratore. I sindacati hanno inoltre diffidato l'amministrazione dall'affidare il servizio alla nuova ditta senza che prima si sia raggiunto l'accordo. Toccherà nuovamente alla prefettura tentare di dirimere la controversa vertenza. Intanto a Vittoria il servizio procede in regime di prorogazio. In questo momento c'è ancora la Tecra SRL a cui è stata prorogata per l'ennesima volta purtroppo il servizio fino al 17 novembre. Chiaramente noi avevamo le festività dei morti e poi le maglie da gestire quindi non potevo certamente rimanere senza servizio a Vittoria. Quindi siamo stati costretti a prorogare perché ancora il passaggio di consegne e quindi il passaggio poi dei lavoratori alla nuova ditta non è stato possibile visto le trattative in corso. Non sta meglio a Cate dove gli operatori ecologici hanno proclamato due giorni di sciopero il 7 e l'8 novembre prossimi. Senza stipendi da mesi si dicono preoccupati per il loro futuro i lavoratori della ditta Busso di Giarratana. Dalla denuncia si evince che il comune di Cate deve all'impresa oltre un milione e 490 mila euro corrispondenti a quasi due anni di fatture. Da Vittoria Cate ci spostiamo a Modica dove continua lo stato di agitazione da parte dei dipendenti che ancora devono ricevere gli stipendi. Stiamo parlando degli operatori ecologici che avevano iniziato una protesta nell'aula consigliare di Palazzo San Domenico. De lì poi un incontro in prefettura. Il sindaco Abate ha emesso tutti i mandati di pagamento come sottolinea lo stesso. Però viene accusato dall'opposizione di non aver rispettato gli accordi della prefettura che prevedevano tempi nettamente diversi da quelli che corrispondono poi alla realtà dei fatti. A rincarare la dose è la CGL che chiede al sindaco di non promettere se poi non può mantenere. Sin quando non avrà la somma dei 400 mila euro la ditta Puccia non corrisponderà gli stipendi ai lavoratori. Sino ad oggi la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana in città ha ricevuto solo una parte della somma di cui avrebbe dovuto beneficiare in relazione all'accordo siglato in prefettura. Secondo l'atto prodotto dinanzi la prefetta Librizi il sindaco avrebbe emesso mandato di pagamento il 19 ottobre e il 24 con la disponibilità di cassa ovviamente i dipendenti a seguito dell'accreditamento del liquido alla ditta Puccia avrebbero viste accreditate le somme che li spettavano. Così non è stato in quanto il sindaco ha prodottosi un mandato addirittura il giorno prima ma di circa 200 mila euro e non di 400. A questi vanno aggiunti gli ultimi mandati di pagamento di ieri e di oggi che portano sì alla somma di 400 mila euro ma prima di raggiungerla in termini di liquidità e dunque di disponibilità si dovrà aspettare il 2 novembre. Il mandato emesso ieri sarebbe pari a 105 mila euro e prenderebbe valuta nella giornata di domani. L'ultimo è stato emesso oggi secondo quanto si apprende da Palazzo San Domenico. Il mandato di oggi prenderà valuta il 2 novembre quindi verosimilmente stando alla volontà della ditta Puccia di rispettare gli accordi assunti dinanzi al prefetto i dipendenti dovrebbero aspettare sino al 2 novembre prima di ricevere le somme che li spettano. Sull'argomento pare sia stata interessata anche la prefettura di Ragusa. Per il sindaco di Modiche, Ignazio Abbate, gli accordi sono stati rispettati e le critiche a lui mosse sono solo pure fantasie volte a screditare il suo operato. Ma l'opposizione sottolinea come i tempi previsti dall'accordo siano stati totalmente disattesi in quanto il sindaco, secondo i consiglieri di opposizione, se avesse realmente rispettato gli accordi avrebbe prodotto un unico mandato da 400 mila euro e attesa la valuta entro circa il 24 ottobre i dipendenti della Puccia sarebbero stati pagati, cosa che nei fatti non si è verificata. Anche la CGL sull'argomento rincara la dose e chiede al sindaco Abbate di non promettere se poi nei fatti non può mantenere. Da Modica andiamo a Catania dove riscossione Sicilia si dice pronta a pagare direttamente i notificatori assunti dal Consorzio Olimpia. Dichiararlo è proprio il presidente della società Antonio Fiumefreddo. Dopo il grido allarme lanciato ieri dai lavoratori del Consorzio Olimpia attraverso il sindacato OGL abbiamo sentito questa mattina il presidente di riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo, il quale si è sempre dimostrato disponibile nei confronti dei lavoratori, come ribadito questa mattina anche ai nostri microfoni. È una situazione che ci allarma particolarmente, innanzitutto per ragione di carattere proprio umano, nel senso che ci sono delle famiglie di lavoratori, sono dipendenti del Consorzio, non dipendenti di riscossione, che non solo percepiscono stipendi da fame, ma con quello stipendio tirano su le loro famiglie e non pigliare lo stipendio da mesi è veramente una vergogna che non dovremmo consentire. La nostra disponibilità a pagare direttamente i lavoratori ha incontrato il silenzio da parte del Consorzio, per di più noi abbiamo col Consorzio come riscossione una serie di contenziosi e di segnalazioni che abbiamo fatto anche all'autorità giudiziaria perché non ci convince il sistema delle notifiche, cioè troppe notifiche non vanno in porto e troppe notifiche di importo importante. Quindi c'è una situazione complessiva che va risolta, tenete conto che la stragrande parte del contenzioso di riscossione sicilio davanti alle commissioni tributarie è per le notifiche, quindi c'è un lavoro fatto male e questo stiamo affrontandolo. Una boccata d'ossigeno per la provincia di Ragusa, di Enna e di Siracusa, così l'onorevole Nello Di Pasquale, vicepresidente della commissione bilancio all'ARS, sottolinea come stiano arrivando 18 milioni di euro nelle casse degli enti. Intanto però non mancano le reazioni e si accende sempre di più la polemica in merito al rinvio delle elezioni degli organismi dei liberi consorsi comunali. Arriveranno 18 milioni di euro che saranno ripartiti ai liberi consorsi comunali di Ragusa, Siracusa ed Enna. Ieri sera infatti la giunta regionale di Palermo ha approvato un assestamento di bilancio, così come ha reso noto il deputato regionale del PD e vicepresidente della commissione bilancio all'ARS, Nello Di Pasquale. Un gettito economico che servirà agli enti per ripienare i conti, permettendo di garantire alcuni servizi che sono stati a rischio, come ad esempio il servizio di trasporto per i disabili. Adesso la manovra dovrà passare dalla commissione seconda dell'Assemblea regionale siciliana e in quella sede si deciderà come saranno ripartiti i fondi fra i tre comprensori provinciali. Per il libero consorzio di Ragusa, a ferma di Pasquale, per esempio, sappiamo già che sono necessari almeno 6 milioni di euro. Subito dopo l'assestamento di bilancio arriverà in Assemblea per il voto. Intanto continuano le reazioni del mondo politico sul rinvio della data delle elezioni degli organismi per i liberi consorsi comunali e città metropolitane, che slittano di quattro mesi e dunque al 26 febbraio 2017. Molto critica Forza Italia, già ieri sera con le dichiarazioni del suo capogruppo a Lars Marco Falcone, ma altrettanto duro è il deputato regionale azzurro ibleo Giorgio Assenza. Certa di andare incontro a una patosta elettorale, la pseudomaggioranza, dice Assenza, composta da PD, Volta Gabbana e Transfughi Vari, dopo aver votato una norma cervellotica che di fatto nega ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, impedisce ora anche ai consiglieri e ai sindaci di eleggere gli organismi dei liberi consorsi. Assenza, aggiunge, la Sicilia è l'unica regione in Italia a non avere ancora portato a termine la riforma delle ex province e la rimodulazione degli enti sovraccomunali. Anche il Movimento 5 Stelle scende in campo. La maggioranza sequestra il destino dei siciliani perché lotta per gli strapuntini. Dai corridoi di Palazzo dei Normanni pare infatti che Sicilia Futura stia scatenando questa ennesima spaccatura nella maggioranza. Prosegue il Movimento 5 Stelle. Insomma, ancora uno schiaffo alla rappresentatività del territorio e dei siciliani. Adesso apriamo la pagina dedicata alla crona che lo facciamo con delle notizie esclusive, inedite, riguardo il retroscena dell'omicidio Nicosia. Sentiamo Viviana Sammito. Il capannone distrutto dalle fiamme, martedì 25 agosto 2015, alle 17 circa, incontrata a Serra Rovetto a Vittoria Prea, annuncia l'inizio di una guerra tra soci sfociata con l'omicidio di Salvatore Nicosia Turi Mazinga, per il quale sono in carcere Carmelo e Giacomo Iannello e due giovani di Messina, Giuseppe Scionti e Ivan Cacciola. L'opificio è di proprietà dell'imprenditore Maurizio Ciaculli che ha denunciato diversi casi di agromafia nella grande distribuzione, ma nel 2014 viene sfrattato perché è indebitato con una banca e l'attività di Ciaculli fallisce. Il suo capannone viene gestito dal curatore fallimentare che, secondo i ben informati, l'affida ad un'azienda, la World Fruit, che fa capo alla moglie di Biagio Iannello, figlio di Giacomo, fermato per l'omicidio di Nicosia, il quale era uno dei tanti soci, sicuramente quello più scomodo che doveva essere eliminato. C'era l'attività di lavorazione di ortofrutta di facciata, poi quella più redditizia che era quella delle truffe. Iannello, Giacomo, secondo quanto si è appreso, faceva il carico di merce e non solo al mercato ortofrutticolo di Vittoria e con metodi mafiosi lasciando indebitati i produttori e i commissionari perché non pagava mai e nessuno mai ha rivendicato le somme per paura di ritorsioni. Nel contesto delle truffe la società di Iannello si arricchiva ed era proprio in questa attività che Nicosia aveva pretese economiche come tutti gli altri soci, compresi alcuni casalesi. Poi il capannone viene incendiato come le due auto di Giacomo Iannello, fatti di cui si era reso responsabile Salvatore Nicosia secondo le accuse di Iannello, tant'è che è stato costretto a lasciare Vittoria e rifugiarsi in un paesino di 180 abitanti del Messinese Altolia dove abitava con suo padre. Turi Mazinga, definito rissoso e aggressivo, ha pestato i piedi al figlio di Giacomo, Biaggio, di 29 anni. Lui si è incontrato con Nicosia per discutere, ma sono venuti alle mani. Mazinga sarebbe riuscito a sopraffare Biaggio e Iannello colpendolo con calci e pugni. Poi la vendetta di Giacomo e del padre Carmelo con l'eliminazione di Turi Mazinga. Lui la vittima proveniva da una famiglia per bene, molto rispettata a Vittoria. La moglie si è detta all'oscuro dei rapporti economici e di lavoro del marito. Lei lo aveva denunciato per stalking, ritirando poi la querela. Ancora cronaca, è durata 5 ore e mezza l'autopsia sul corpo di Valentina Milluzzo. Ce ne parla Sara Donzuso. Ci vorranno 90 giorni per conoscere il risultato dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio all'ospedale Cannizzaro sul corpo di Valentina Milluzzo. L'esame autoptico è durato circa 5 ore e mezzo nell'obitorio dell'ospedale. Ricordiamo che la 32enne Valentina è morta il 16 ottobre nello stesso nosocomio dopo un doppio parto abortivo alla 17esima settimana di gravidanza in notta con la procreazione assistita. Oltre che su Valentina, gli esami sono stati eseguiti anche sui due feti e sulla placenta della donna. La relazione finale sarà depositata, come accennato, entro 90 giorni dal collegio dei periti e l'Università Torvergata di Roma, nominati al procuratore Etneo Carmelo Zuccoro, composto dal medico legale Gianluca Marella, dall'infettivologo Antonio Volpi e dal ginecologo Carlo Ticconi. La famiglia della donna, assistita all'avvocato Salvatore Catania Milluzzo, ha nominato come consulente di parte il medico legale Lucio Di Mauro. All'autopsia hanno partecipato anche i consulenti nominati ai 12 medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cannizzaro, che sono indagati come atto dovuto dalla procura per compiere l'autopsia come atto irreperibile per omicidio colposo o plurimo. Intanto sulla vicenda è intervenuta anche la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, che ha detto che le indagini daranno atto della parte legata all'autopsia e ci daranno se ci sono state delle cose che non andavano, ma questo non è in grado di farlo la task force che può valutare solo se sono state rispettate le procedure, i protocolli e quelli che sono i comportamenti in determinati casi. Aspetterò, ha concluso Lorenzin, la relazione dettagliata per evidenziare alcuni tipi di criticità che sono stati rilevati e che devono essere migliorati nel funzionamento della struttura ospedaliera catanese. Una svastica e un pene disegnati di sopra il portone e sui manifesti elettorali del candidato a sindaco di Scicli, Carmelo Vanasia, noi lo abbiamo incontrato. Atto vandalico ai danni del comitato elettorale del candidato a Scicli, Carmelo Vanasia. Quest'ultimo non informerà le forze dell'ordine di quanto accaduto per non dare importanza a suo dire ad un gesto meschino e maleducato. Non è stato proprio un buongiorno quello di oggi per il candidato a sindaco che ha trovato il proprio comitato elettorale preso di mira dai vandali o da chi voleva farle un'intimidazione. Come potete vedere, oltre che sul portone, anche sul manifesto del candidato è stato disegnato un fallo e una svastica. Ieri, peraltro, è successa anche un'altra cosa. Mi avevano chiuso il profilo Facebook e questa era una cosa che mi ha lasciato amareggiato perché era l'unico mezzo che io avevo per parlare con i miei concittadini. Poi ho subito anche questo attacco che, peraltro, a prescindere da quello che hanno fatto, hanno messo un segno che veramente non mi appartiene perché io e mio fratello fino a qualche anno fa abbiamo militato nel PD e quindi io non sono fascista per niente, sono un buon cattolico democristiano e lo dico pubblicamente. Per cui dico a tutti, chiunque esso sia stato, che oggi siamo al 2016 e queste villanerie non possono più accadere e non devono più accadere. Quindi esorto tutti, anche i miei competitori, affinché ci sediamo a un tavolo, parliamo di contenuti e cerchiamo di portare i cicli fuori dalla crisi. Questo è quello che oggi rispondo agli attacchi che subisco. Provederà per vie legali? No, no, assolutamente. Non voglio querela a nessuno, non ho fatto neanche querela ai carabinieri. Un ponte per la droga a partire da Pozzallo per finire a Malta. Un ponte su cui stanno indagando le forze dell'ordine. È sempre più frequente, infatti, il traffico dall'Italia a Malta per le sostanze stupefacenti. Ce ne parla Catiuscia Carpentieri. 13 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel porto di Pozzallo. L'operazione è stata portata a termine giovedì scorso dalle Fiamme Gialle in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso è stata fermata un'auto con a bordo un catanese di 55 anni in procinto di imbarcarsi sul Catamarano per Malta. È stato l'atteggiamento nervoso dell'uomo ad insospettire militari, oltre alla presenza di numerose viti e bulloni sotto uno dei sedili. Il tutto ha fatto ipotizzare la realizzazione di doppi fondi e la possibilità che vi fosse merce illegale a bordo. Dai controlli più approfonditi sono stati rinvenuti 25 confezioni di marijuana del peso complessivo di 13 kg, occultata all'interno dei paraurti della ruota di scorte e degli sportelli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto nel carcere di Ragusa, mentre l'auto e la droga sono state sequestrate. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 200 mila euro. Le analisi chimiche sul prodotto hanno attestato la presenza di un altissimo principio attivo di gran lunga superiore a quello riscontrato in altri analoghi sequestri. Secondo gli inquirenti, la droga era diretta a soddisfare la domanda di giovani e meno giovani che affollano i numerosi locali notturni e le discoteche dell'Isola dei Cavalieri. Chiusa un'altra casa di appuntamenti a Ragusa. È l'ottava casa, a luci rossa e quella sequestrata ieri pomeriggio, in via Vittorio Veneto, nel cuore di Ragusa. I blitz della squadra mobile ha infatti beccato in flagranza e dispaccio un romeno di 24 anni, Giorgia Lin Mihala, arrestato mentre cedeva la droga ad un minorenne di 17 anni, anche egli romeno, che una volta visti gli agenti ha cercato di fuggire dal retro della casa. Ma la polizia lo ha fermato e già altre volte era stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Un piccolo appartamento all'interno del quale vi era anche un 43enne, brasiliano, transessuale, compagno dello spacciatore, che ha ammesso di prostituirsi da poche settimane. Il transessuale è stato diffidato nel continuare l'attività di prostituzione nel territorio ragusano, mentre si stanno valutando le condizioni di mantenimento del suo soggiorno nel territorio. Il brasiliano ha detto alla polizia che non voleva andare via da Ragusa perché ormai aveva un giro di affari redditizio e non voleva perdere i clienti. Sono proprio i clienti che, avendo indicazioni poche esatte su dove si trova la casa, spesso sbagliano e suonano in altre abitazioni in qualsiasi ora del giorno, disturbando le persone e destando numerosi sospetti. Chi si prostituisce, infatti, non inserisce la via esatta in cui si trova l'appartamento proprio per non farsi trovare dalla polizia, ma la strada viene illustrata una volta che si contatta la donna o l'uomo al telefono. Anche in questo caso il giro di affari oscilla tra le 50 e le 200 euro in base alle richieste del cliente. Dopo tutti i controlli la polizia ha chiuso la casa mentre il proprietario dell'immobile è stato diffidato dall'affittare l'appartamento a persone che si prostituiscono. I controlli da parte della polizia di Stato continuano. 14.35 minuti, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, ma torniamo subito dopo. Eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Ha voluto fare chiarezza il comitato ristretto per la strada statale 514 in merito al raddoppio. Sentiamo. Potrebbe essere una questione di pochi mesi l'avvio dei cantieri per la realizzazione della Ragusa Catania il cui raddoppio è atteso da circa 13 anni. Un iter complesso tra fuga in avanti e passi indietro. Il 30 agosto scorso ha subito un'accelerata. L'approvazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e la Società Autostrade Ragusa Catania. La copia del documento è stata presentata oggi ai giornalisti. Un atto da parte del comitato per fare chiarezza dopo le polemiche intercorse nelle scorse settimane sulla rete viaria e di connessione in Sicilia seguite da affermazioni ritenute poco aderenti alla realtà. La fuga in avanti di qualche esponente politico non tutta però la politica di riportare l'orologio indietro per poter poi posizionarsi per dire che l'opera si è fatta grazie alla parte politica di questo esponente politico non c'è dubbio che da questo esempio dobbiamo trarre insegnamento per le scadenze future che ci sono in questa provincia. Quindi l'esempio di buona politica è stata che noi tutte le volte che abbiamo avuto bisogno della politica la politica ci è stata a fianco di politici anche che hanno avuto qualche problema giudiziario come quello di ieri che sono stati a nostro fianco anche loro ed è giusto dirlo. Noi non abbiamo mai fatto l'errore di dire che siamo stati i primi della classe noi abbiamo coordinato soprattutto dopo che non c'era la presidenza da quattro anni abbiamo avuto il peso di orientare e aiutare anche la buona politica a lavorare insieme società civile e classe politica. L'approvazione del documento non sarà sottoposto al vaglio del Cipe passaggio che comporterebbe ulteriori ritardi il progetto definitivo da parte della società sarà direttamente sottoposto alla commissione di servizi l'opera sarà realizzata con fondi pubblici e privati e costerà oltre 800 milioni di euro. Abbiamo il decreto ministeriale dei due ministeri infrastrutture ed economia che mette nero su bianco tutti i passaggi che avevamo anticipato e che oggi sono assolutamente registrati in questo decreto. Questo vuol dire che tutta la parte che portava al progetto esecutivo e quindi al passaggio finalmente realizzativo è stato assolutamente bypassato da tutte le varie formalità e quindi passeremo alla fase realizzativa. Parliamo adesso di due talenti della danza latino-americana sono due modicani e andranno ai campionati mondiali. Edoardo ed Esmeralda Rizza italo-colombiani ma nei fatti modicani sono due fratelli che rappresenteranno la Colombia in occasione dei campionati mondiali di danze latino-americane. I due talenti della danza hanno conquistato la Colombia paese d'origine della madre e adesso puntano ad essere in vetta le prossime competizioni. Sacrificio, impegno e costanza questi gli ingredienti che hanno fatto di loro oggi dei talenti molto affermati elementi che ogni giorno vengono curati dal loro maestro Peppe Incatasciato quest'ultimo che di talenti ne ha curati tanti e che nonostante la giovanissima età vanta un curriculum prestigioso non solo come competizioni personali ma anche come insegnante ha parlato così dei ragazzi ai nostri microfoni. Edoardo e Esmeralda sono stati curati tecnicamente da me sin dalla giovane età anche se sono tuttora giovani e il progetto già nasce da 5-6 anni fa quando giustamente si è presentata la possibilità per Edoardo e Esmeralda di rappresentare la nazione di uno dei loro genitori la madre per cui questo trampolino di lancio questa possibilità faceva parte di un progetto che oggi ci ha ripagato grazie all'impegno e alla costanza e anche alla lungimiranza del vederci comunque nel talento che entrambi i ragazzi hanno. I due fratelli sono giovanissimi frequentano le superiori sono impegnati nello studio ma il posto per la danza c'è sempre. Ancora non abbiamo assimilato molto la cosa però comunque siamo molto emozionati e diciamo che ci ha fatto molto piacere comunque è stata una bella esperienza c'è molta complicità tra di noi non litighiamo troppo però comunque sempre qualche volta ci scappa la litigata. Inizio appunto perché non avevo uno sport in cui eccellevo in cui appunto mi piacesse ho deciso su costrizione di mia madre sono dovuto andare a fare ballo l'inizio è venuto un po' difficile anche perché non mi ci trovavo però mi scappava pure qualche pianta così perché proprio non ne volevo sapere però piano piano siamo andati avanti e adesso siamo qua A questo punto non ci rimane che augurare il meglio a questi modicani che pur che non rappresentando il tricolore italiano siamo certi che utilizzeranno la loro modicanità come componente vincente Allora ancora tanti auguri e un grande in bocca al lupo a questi due campioni La Passalacqua Ragusa trova la prima vittoria all'esordio assoluto in una competizione europea battendo a domicilio il Namur nella prima giornata del gruppo E di Euro Cup la prestazione super quale della squadra di Lambruschi che in Belgio cercava il riscatto di risultato e prestazioni e che ha trovato nella giocatrice di casa Yuli Van Loo la propria trascinatrice la play bianco-verde è stata autrice di 18 punti 6 rimbalzi e 3 assist ma è stata tutta la squadra nel suo complesso a dare al tecnico le risposte che si cercavano alla fine il risultato finale di 43-64 rispecchia quanto visto nel corso del match sono le 14.45 minuti non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti